Diritto del lavoro, video lezione numero 6. Il mercato del lavoro e le procedure di assunzione del lavoratore, parte seconda. I sistemi informativi del lavoro. Sistema informativo unitario delle politiche del lavoro. Al fine di garantire una migliore gestione del mercato del lavoro, il decreto legislativo 150 del 2015 ha istituito il sistema informativo unitario delle politiche del lavoro gestito dall'AMPAL. A tale sistema informativo affluiscono una serie di dati provenienti da banche dati e anagrafi tenute dai vari organismi istituzionali. Costituiscono elementi del sistema informativo unitario dei servizi per il lavoro, il sistema informativo dei percettori di ammortizzatori sociali, l'archivio informatizzato delle comunicazioni obbligatorie, i dati relativi alla gestione dei servizi per il lavoro e delle politiche attive del lavoro, il sistema informativo della formazione professionale. Le informazioni raccolte in questo sistema informativo unitario costituiscono poi la base per la formazione e il rilascio del fascicolo elettronico del lavoratore. Altro sistema informativo del lavoro è la borsa continua nazionale del lavoro. La borsa nazionale del lavoro è un sistema informativo accessibile tramite internet che ha il compito di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro. La borsa è basata su una rete di nodi regionali collegati tra loro nell'ambito di un portale nazionale gestito dal ministero del lavoro. È rivolta ai cittadini che possono consultare le offerte di lavoro, inserire le proprie candidature e rendere visibile il proprio curriculum. È accessibile anche ai datori di lavoro che possono pubblicare le proprie richieste di personale. È accessibile anche agli intermediari pubblici o privati autorizzati, i quali devono inserire i dati da loro acquisiti sulle domande e le offerte di lavoro. La borsa prende il posto del sistema informativo lavoro, SIL. Il decreto interministeriale del 13 ottobre 2004 ha regolamentato le procedure per l'acquisizione dei dati, la gestione del sistema da parte delle amministrazioni pubbliche e l'accesso anche alla consultazione. Altro sistema informativo è la banca dati delle politiche attive e passive. Si tratta di uno strumento che dovrebbe rendere i servizi per l'impiego efficienti ed efficaci, facendo in modo che i dati su domande e offerta confluiscono in modo automatico in un'unica rete informatica. Nella banca dati, infatti, confluiscono tutti gli elenchi di destinatari di prestazione di sostegno del reddito, l'anagrafe nazionale degli studenti e dei neolaureati, la dorsale informativa riguardante i percorsi formativi dei lavoratori. Nello specifico dunque la banca raccoglie informazioni sui soggetti da collocare nel mercato del lavoro, sui servizi erogati e le opportunità di impiego. Obblighi comportamentali degli operatori pubblici e privati. La legge per le agenzie, per il lavoro e gli altri operatori del mercato del lavoro, pubblici o privati, prevede a tutela del lavoratore una serie di obblighi, tra cui divieto di campagne informative anonime, divieto di indagini sulle opinioni personali del lavoratore e divieto di trattamenti discriminatori, divieto di oneri in capo ai lavoratori. Gli operatori che svolgono servizi per l'impiego non possono esigere o percepire direttamente o indirettamente compensi dal lavoratore. Le comunicazioni obbligatorie relative all'assunzione e rapporto di lavoro. La comunicazione di assunzione. La modalità dell'assunzione diretta del lavoratore viene introdotta con la legge 608 del 96 successivamente modificata dal decreto legislativo 297 del 2002, in sostituzione della procedura che invece prevedeva l'obbligo in capo al dottore di lavoro di procedere all'assunzione dei soli iscritti nelle liste di collocamento mediante un'apposita richiesta all'ufficio del lavoro competente territorialmente. Il sistema introdotto dalla nuova normativa permette l'assunzione di tutti i lavoratori, salvo nei casi in cui vige l'obbligo di assunzione attraverso l'indizione di appositi concorsi. I datori di lavoro che procedono tramite assunzione diretta sono tenuti ad effettuare comunicazione al centro per l'impiego della data di assunzione, della scadenza del rapporto se a tempo determinato, dei dati anagrafici del lavoratore, della qualifica professionale del lavoratore, della tipologia contrattuale e del trattamento economico e normativo. Su questo punto normalmente è sufficiente indicare il CCNL applicato dal datore di lavoro e il relativo inquadramento nel livello retributivo spettante in base alla qualifica professionale attribuita. Copia della comunicazione preventiva di assunzione deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore all'atto dell'assunzione e prima dell'inizio dell'attività. Inoltre, prima dell'inizio dell'attività lavorativa, il sistema dell'assunzione diretta prevede un ulteriore adempimento per i datori di lavoro che sono tenuti a consegnare ai lavoratori una copia dell'atto di instaurazione del rapporto di lavoro. L'obbligo si intende assolto con la consegna al lavoratore di copia del contratto individuale di lavoro che contenga anche tutte le informazioni previste dal decreto legislativo 152 del 97. Il termine per la comunicazione scade alle ore 24 del giorno precedente l'inizio del rapporto di lavoro, anche se festivo, e la comunicazione di assunzione deve avere data certa di trasmissione. La data di inizio del rapporto coincide con la data da cui decorrono l'obbligo della prestazione lavorativa e della remunerazione. In virtù del decreto legislativo 150 del 2015, le comunicazioni di assunzione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro, devono essere comunicate per via telematica all'AMPAL. Nell'emore della piena operatività di tale nuovo ente, le comunicazioni continuano ad essere effettuate telematicamente ai centri per l'impiego competenti. Eccezioni. Assunzioni d'urgenza per esigenze produttive. Assunzioni di urgenza per esigenze produttive. Quindi in questo caso la comunicazione deve essere effettuata entro cinque giorni dall'instaurazione del rapporto di lavoro, fermo restando l'obbligo di invio entro il giorno antecedente di una comunicazione sintetica contenente la data d'inizio della prestazione lavorativa, le generalità del lavoratore e quelle del datore di lavoro. Altra eccezione. Le assunzioni per causa di forza maggiore o per eventi straordinari. In questo caso l'assunzione deve essere comunicata entro il primo giorno utile e non oltre il quinto giorno successivo, senza l'obbligo di una preventiva comunicazione sintetica. Oggetto delle comunicazioni. Gli obblighi riguardano tutti i rapporti di lavoro, tranne le categorie del pubblico impiego, per le quali il rapporto di lavoro non ha natura contrattuale, ma è regolato dalla legge, come magistrati, avvocati dello Stato, eccetera. Non riguarda nemmeno le attività inerenti, l'esercizio di una professione intellettuale, per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali. Questi obblighi non riguardano nemmeno le nomine, di componenti, di organi di amministrazione e controllo di società, così come non riguardano le partecipazioni ai collegi o commissioni, le prestazioni di lavoro accessorio e nemmeno i periodi di pratica professionali e professionali regolarmente comunicate ai rispettivi ordini professionali. Comunicazione di cessazione, trasformazione e variazione del rapporto di lavoro. Oltre all'assunzione, il datore di lavoro è obbligato a comunicare al centro per l'impiego anche la cessazione dello stesso entro cinque giorni dall'evento. La scadenza del termine in un giorno festivo comporta la proroga automatica al primo giorno lavorativo utile successivo. La comunicazione relativa alla cessazione del rapporto di lavoro va effettuata solo nel caso di rapporto a tempo indeterminato oppure nei casi in cui la cessazione si sia verificata in una data differente da quella già comunicata all'atto dell'assunzione, ad esempio risoluzione anticipata del contratto a termine consensuale, recesso durante il periodo di prova, dimissioni, licenziamento per giusta causa. Nel caso di proroga del rapporto rispetto al termine inizialmente fissato si distinguono due casi. Il primo caso, qualora la prosecuzione della prestazione non sia di durata superiore ai cinque giorni rispetto alla data di cessazione a suo tempo comunicata, possono essere effettuate alternativamente la comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro entro i cinque giorni successivi alla data di cessazione individuata all'atto della comunicazione di assunzione, oppure la comunicazione di proroga con indicazione della nuova cessazione. Il secondo caso invece è qualora la continuazione della prestazione sia per una durata superiore ai cinque giorni deve essere sempre inviata la comunicazione della proroga con contestuale indicazione della nuova cessazione. Permane l'obbligo di comunicazione al centro per l'impiego entro cinque giorni dall'evento anche per quanto concerne la trasformazione e la variazione del rapporto di lavoro. Le tipologie di trasformazione sono trasformazione da tirocinio ed assimilati a rapporto subordinato, proroga del termine inizialmente fissato, trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato, trasformazione da apprendistato a tempo indeterminato, trasformazione da formazione a lavoro e inserimento a tempo indeterminato, trasformazione da tempo part time a tempo pieno, trasferimento del lavoratore, distacco, modifica ragione sociale del datore di lavoro o trasferimento d'azienda o ramo di essa.